Ciao a tutti, siamo Marco Ferrazzi e Monica Vitti, siamo qui al Parco Lambro e quest'oggi vi presenteremo alcune canzoni tratte dal nostro primo album in studio che si intitola Torno in scatola. Anna è una ragazza di Torino, io me la ricordo in motorino ci vediamo in corso Francia, dammi un bacio sulla guancia i vini li sparsi sul divano, tuo papà con un giornale in mano sopra al tavolo un'arancia, due scontri e una bilancia e poi di corsa all'università prendiamo il controviale i libri, la molla, gli occhiali da sole e l'odore del fiume ci raggiunge al semaforo e si mischia alle sciarpe col gasolio delle fia come il lungo un gale di Torino senza te che leggi la mia mano meglio di una cartomante hai un futuro luccicante hai terminato l'università, sei stata in Argentina che fai nella vita, hai girato l'Europa il locale sul fiume, gli adesivi al semaforo le farfalle di sera che sbattevano sui neo e adesso che tu non ci sei, te lo direi, te lo direi adesso che tu non ci sei, quanto sei bella camminando mi è sembrato di vederti, ma è soltanto sul gestione per le strade di Torino c'è un mercato come bello camminare tra i palazzi sotto il sole per le strade di Torino al mercato mi è sembrato di vederti ma è soltanto sul gestione per le strade di Torino per le strade di Torino per le strade di Torino mi è sembrato di vederti per le strade di Torino per le strade di Torino